Dov'è? Dai lo voglio chiedere io col pesce, dai, ti prego, ti prego, ti prego Sì, dai, ti do qualche coin in più Dai, fallo chiedere a me No, 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 perché? Che cos'è stato? Oddio Boh, io non riesco a salire No dai, Max, lo voglio chiedere io, seriamente? Ehi, ma come facciamo? Uff, la piglia lì Aspetta, se mi sto accidendo io lo... Dai Dai Lo chido che mi dice, vuoi aspettare qua gli anni fa Dai, 60 blocchi adesso Amore Dov'è sto labo? Dov'è sto labo? 120 blocchi Sì, dai, ma sto qua è più bravo Sì, la che muro qua adesso Non è che nella labbra Perché ho uno più sacco Dame Fu khas Ucciso Kill pesche Nel ca una carica eh Grazie a tutti.